Sistema Involcro, l'involcro efficiente e di design. Si è parlato di questo il 13 giugno 2018 a Venezia Mestre per un workshop organizzato dal gruppo Sistema Involcro. Cinque aziende che fanno parte della filiera dell'involcro edilizio che si sono messe insieme per raccontare in un tour in quattro città italiane le ultime novità in merito a quella che è la pelle della casa, dalla parete ventilata fino all'efficientamento energetico passando per la qualità dell'aria con la ventilazione meccanica controllata. Una giornata davvero intensa, vediamo. Non abbiamo più possibilità di disperdere inutilmente energia per cui dobbiamo in qualche modo contenerla e le aziende che qui si sono assieme a noi lo dimostrano per cui diversi prodotti vengono intelligentemente accoppiati per cercare di migliorare le performance dell'involuco. Isotec è sostanzialmente la costante di questa giornata formativa e la presenza dei partner che abbracciano di fatto Isotec è la dimostrazione concreta e reale di questa cosa. L'interesse è sempre notevole da parte dei progettisti e quindi ci dà molta soddisfazione anche il fatto che loro partecipino anche con domande pertinenti in merito a quello che proponiamo. L'interesse è stata molto attenta, ha fatto delle domande giuste, abbiamo cercato di spiegargli le motivazioni per cui è necessario nelle case ad alta efficienza utilizzare i sistemi di ventilazione per ottenere una qualità dell'aria la più ottimale possibile. Una partecipazione importante, una sala gremita per quello che era la capienza e quindi abbiamo trattato un po' di temi credo molto interessanti dal punto di vista proprio di nuovi sistemi, di efficientamento di quelli che possono essere gli edifici. Sono sempre molto contenti di partecipare con i nostri partner e di incontrare i progettisti per parlare loro dei nostri materiali e delle possibilità di progettare insieme. Grazie a tutti!